Il presidente dell'ordine regionale del Molise, i giornalisti, prima vittoria, presidente, un grande risultato contro i cugini abruzzesi. Non ci avrei mai creduto, non ci avrei mai sperato, bella partita, bella giornata di sport, abbiamo vinto e non so che dire, sono contentissimo, guardate, che non ho giocato di nuovo. Sì, con l'ordine dei consulenti del lavoro di Campobasso, sicuramente con l'Aiga di Larino, i giovani avvocati di Campobasso sicuramente, vedremo, stamattina mi ha gettato il guanto di sfide il presidente dell'ordine giornalisti della Campania, Ottavio Rucarelli, noi rispondiamo che ci saremo. Buonissima giornata e una grande vittoria per noi. Sì, anche una grande soddisfazione per noi e anche per i ragazzi perché ci tenevano in modo particolare. Oggi avevamo degli innesti nuovi e quindi la squadra si è mossa meglio. Però è stato bellissimo in questo impianto fare con i cugini abruzzesi e devo dire che è stata anche una bellissima partita molto equilibrata. Riccardo Clinco, l'allenatore della rappresentativa abruzzese, una partita bella combattuta. Bella combattuta, diciamo che il problema dell'età è stato quello, voi eravate un po' più giovani e noi eravamo, quantomeno, un po' più anzianotti. A me hanno detto, vieni a fare una partita amichevole, siamo venuti, devo dire che la mia squadra non è questa, noi abbiamo portato solo tre persone della mia squadra e il resto sono persone che non hanno mai giocato a pallone perché abbiamo una squadra veramente forte.